Nelle strade toscane abbiamo avuto una flessione per quanto riguarda gli incidenti stradali, morti e feriti. Soprattutto il dato del 2015 vede la diminuzione del 4,7% rispetto al 2014. Se in Italia il numero delle vittime stradali cresce in Toscana, cala assieme a quello degli incidenti e dei feriti. Questo ci incoraggia ma ovviamente non basta perché ancora molti sono gli incidenti, molte sono le vittime anche sulle strade toscane. Quindi dobbiamo continuare a lavorare come regione, come istituzioni. Iniziative di promozione della cultura delle regole, della cultura della legalità sono fondamentali soprattutto laddove sono rivolte ai ragazzi giovani. Anche come osservatorio regionale per la sicurezza stradale stiamo dando molto impulso a questo tipo di attività. Così come anche quest'anno abbiamo ripubblicato un bando da 3 milioni e mezzo per finanziare interventi sull'infrastruttura proprio legati alla diminuzione dell'incidentalità. A livello regionale nel 2015 si sono registrate significative variazioni della mortalità nelle diverse tipologie di strada. Aumentano vittime soprattutto nelle strade urbane più 12% e nelle autostrade più 3%. Sono decisamente diminuite invece nelle strade extraurbane meno 20%. L'incidentalità stradale dipende essenzialmente da tre fattori. Sicuramente quello dell'infrastruttura, le strade devono essere ben manutenute, ma dipende anche dall'efficienza del mezzo che si ha alla guida, ma soprattutto dallo stile di vita e dalla cultura del rispetto delle regole di chi guida. E poi c'è il grande tema anche dei cantieri, ad esempio l'ultimo incidente lungo la E78 era nei pressi di un cantiere. Ora magari non sarà stata quella la causa principale, però insomma i cantieri ce ne sono e ce ne sono tanti. Sì, purtroppo i cantieri sono necessari per migliorare lo stato dell'infrastruttura, però ci vuole molta cautela, devono essere ben segnalati. Chi ci lavora deve essere in estrema sicurezza, proprio per questo abbiamo anche come regione favorito un accordo tra la società autostrade. Stiamo cercando di estenderlo anche all'ANAS proprio per lo svolgimento in sicurezza dei lavori lungo le nostre strade.